Sono state distrutte le tabelle con le indicazioni, le mappe e le straccionate di legno all'ingresso dei percorsi denominati Pantano ed Eremita, i due sentieri naturalistici di Torre Salsa preferiti dai turisti per raggiungere il mare. Un raid vandalico nella riserva gestita dal WWF tra Siculiana e Montallegro. La brutta sorpresa è stata fatta questa mattina dagli operatori dell'Associazione Ambientalista nel quotidiano giro di perlustrazione all'interno della riserva. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Ancora una volta è l'uomo a distruggere le cose belle. Tale è la riserva di Torre Salsa, un'area dalla straordinaria ricchezza di biodiversità che con 5 diversi abitati offre un rifugio sicuro a specie rare, ma è anche un punto di riferimento naturalistico per migliaia di visitatori, ricercatori, ragazzi delle scuole turistiche ogni anno visitano o ritornano nella riserva. La spiegia di Torre Salsa soltanto pochi giorni fa era balzata agli onori della cronaca dopo il blitz dei carabinieri di Siculiana, coordinati dalla compagnia di Grigianto, che hanno denunciato una ventina di persone, uomini e donne, provenienti dal Palermitano ma anche dal Nisseno, viste nude a prendere il sole nella osi naturista per atti osceni in luogo pubblico. Così, purtroppo, la bella riserva grigiantina non è citata sui giornali soltanto per le bellezze, ma soprattutto per i gesti dell'uomo.